Il Centro Autismo Arezzo apre le porte per incontri di formazione. Il primo appuntamento è stato su un tema di stretta attualità, il progetto individuale per la persona con disabilità. Presente è Marino Lupi, presidente di Autismo Toscana. Oggi le famiglie hanno una nuova consapevolezza e sanno che i loro figli devono essere liberi e autodeterminati in una società che li deve accogliere. Le persone disabili non sono soltanto bisogni e assistenza, sono desideri, capacità, attitudini, talenti e quindi noi dobbiamo costruire la vita di queste persone sulle capacità, le attitudini e i desideri prevedendo e rispondendo ai bisogni. La legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali prevede che affinché si ottenga in pieno l'integrazione scolastica, lavorativa, sociale e familiare della persona con disabilità i singoli e vari interventi di integrazione e inclusione siano tra loro coordinati non solo per evitare inefficaci sovrapposizioni ma soprattutto per indirizzare meglio l'insieme di tali interventi verso un'adeguata risposta alle particolari e individuali esigenze della persona beneficiaria. Gli incontri dell'Associazione Autismo Arezzo sono aperti a tutti, sia familiari che operatori e istituzioni. La difficoltà è proprio quella nelle famiglie di avere la piena consapevolezza che il percorso è lungo, è complicato e che purtroppo il sistema non è pronto e comunque non è molto collaborativo. Quindi dobbiamo assolutamente noi fare autoinformazione, sostenerci a vicenda per il bene dei figli, che sono figli, cittadini, studenti e dovrebbero essere anche lavoratori. Quindi il nostro percorso è fondamentalmente rivolto alle famiglie.